Buonasera, buonasera a tutti, voglio ringraziare innanzitutto il professor Roberto Bernard Bey che è il presidente dell'Associazione Italia Longeva ed è componente del Comitato Tecnico Scientifico che oggi mi accompagna nel corso di questa conferenza stampa. Partiamo dai dati di oggi. Oggi il totale delle persone attualmente positive è di 77.635 con un incremento di 2.107 pazienti rispetto a ieri. Di questi 4.023 sono in terapia intensiva, 28.192 sono ricoverati con sintomi, mentre la maggior parte, 45.420, il 59% del totale sono in isolamento senza sintomi o con sintomi lievi. Oggi registriamo purtroppo ancora 837 nuovi deceduti. Il totale dei guariti complessivamente di 15.729 rispetto a ieri le persone guarite sono 1.109 in più. Per quanto riguarda i dati della CROSS, della centrale di soccorso remoto sanitario, ad oggi sono stati trasferiti 96 pazienti, il numero rispetto a ieri è di 2. In totale sono 56 pazienti affetti da coronavirus e 40 non affetti dal coronavirus. Per quanto riguarda le forze in campo registriamo oggi 12.204 volontari, cresce il numero dei volontari impiegati. A questo si aggiungono le Forze Armate, le Forze dell'Ordine, il personale del Dipartimento, delle Regioni e i sanitari che sono in prima linea e che vogliamo tutti quanti ringraziare. Il dato delle tende di pre-triage nei penitenziari. Per quanto riguarda i fondi raccolti dal Dipartimento della Protezione Civile, ad oggi abbiamo raccolto 75.524.000 euro e vogliamo ringraziare tutti quanti gli italiani per la loro generosità, generosità grande e piccola. Quindi ringraziamo tutti coloro i quali hanno fatto una donazione al Dipartimento. Queste risorse sono già state impiegate per 8.138.500 euro per l'acquisto di dispositivi di protezione individuale per gli operatori sanitari. Infine voglio ricordare, se ieri ho ricordato il laboratorio di alto isolamento e biocontenimento dello Spallanzani, voglio ricordare che in Italia esiste un'altra eccellenza, quella dell'ospedale Sacco di Milano che dai tempi della SARS è stato adeguato e attivato al proprio interno un reparto di biocontenimento BSL4. Quindi un reparto altrettanto importante per la lotta agli agenti virali e infettivi che possono coinvolgere la popolazione. Colgo ancora una volta questa sede per ringraziare tutto quanto il personale sanitario che ancora oggi ha fatto registrare decessi nei medici, sono coloro i quali stanno in prima linea e a loro va tutto il nostro sostegno e la nostra riconoscenza. Io mi fermerei qui, darei la parola al professore Bernabèi. Prego professore. Sì, grazie. Io credo che ci siano un paio di cose che vale la pena sottolineare stasera. Intanto la diminuzione dell'incremento dei ricoverati che sono passati da 1.276 il 26 di marzo a 409 ieri, a 397 oggi. E lo stesso l'incremento dei ricoverati in terapia intensiva che sono passati dai 120 del 26 marzo ai 42 di oggi. Quindi questo è un dato che credo ci dia un po' una fotografia generale dell'andamento e di come il sistema ospedaliero fa fronte a questi numeri che sono, come dire, in via di contenimento. Per quello che riguarda il mio più specifico, io mi occupo prevalentemente di anziani, credo che valga la pena una piccola riflessione sulle età più colpite. Continuano a essere quelle degli anziani. L'età media dei deceduti è di 79 anni e colpisce sempre il fatto che sono 70% uomini e 30% donne. Le donne sono più resistenti, sono più forti. È il dato che attraversa tutta la popolazione delle malattie associate. Cioè il coronavirus colpisce degli organismi che hanno delle fragilità. Il 52% dei deceduti ha tre patologie associate, il 25% ha due patologie associate, il 21% ha una patologia associata e qualche spicciolo per cento ha nessuna patologia, il 2% ha nessuna patologia associata. E anche, ci sono 23 deceduti sotto i 40 anni, 15 hanno patologie associate, patologie importanti. Quindi a dire che uno dei segnali che tutti quanti dobbiamo darci è quello che, chi è che ha qualche patologia è bene che la tratti bene, è bene che la curi con attenzione perché diminuisce il rischio possibile. Questo è un pochino, credo, il messaggio generale da dare a tutti quanti. Quindi di essere particolarmente attenti a seguire le terapie e seguire quello che il medico ha detto. Io mi fermo su questo. Sì, prima delle domande vorrei aggiungere anche, seguire le indicazioni che sono state date dalle autorità e in particolar modo anche dal governo, perché se noi vogliamo sconfiggere questo virus dobbiamo adottare corretti comportamenti, quindi mantenere il distanziamento sociale. Su questo non ci stancheremo mai di dirlo. Un giorno arriverà il momento in cui potremo non rispettare questa regola, ma in questo periodo e per i prossimi tempi questa regola per noi deve essere una regola ferrea. A voi le domande. Allora, Daniele Petraroli, Tg2. Volevo capire, il numero degli operatori sanitari contagiati e anche purtroppo deceduti è enormemente più alto rispetto per esempio a quello della Cina, almeno ai dati disponibili. Ma vi siete fatti un'idea del perché questo avvenga? Ci sono, evidentemente c'è stata una sottovalutazione, o magari gli spazi sono più ristretti negli ospedali italiani rispetto a quelli cinesi. C'è un motivo? Ci state lavorando su questo? L'altra invece è per il professore, sulle patologie associate. Oggi l'Istituto Superiore di Sanità ci ha fatto vedere quali sono queste patologie. ci sta per esempio la più frequente è l'ipertensione arteriosa e penso abbiano quasi tutti i pazienti sopra una certa età. Ma anche le altre, la cardiopatia ischemica, diabete, fibrillazione atriale, cioè sono patologie molto comuni. Siamo certi che siano queste a rendere più fragili e più esposti poi le persone che muoiono alla polmonite che viene in seguito al Covid. Grazie. Io lascerei tutte e due le domande al professore, se può rispondere lui. Anche se devo dire che per gli aspetti epidemiologici né io né il professore abbiamo competenze per poter rispondere alla sua prima domanda. credo che su questo o su tutte e due le domande. Sì, sulla prima domanda evidentemente è molto difficile. Sono quelle domande a cui si risponderà tra un po' quando, come si dice, quando tutta la situazione sarà stato possibile analizzarla allora uno retrocederà alle cause e lo chiederemo certamente agli epidemiologi che sono certamente più bravi di me. Per quanto riguarda la seconda, si è dimenticato un'altra patologia che è l'insufficienza renale, tra quelle che lei ha citato. Cardiopatia ischemica, ipertensione, fibrillazione atriale, diabete. Beh, sono le patologie più frequenti dopo una certa età. E il problema non è tanto quello di dire ce l'ho e quindi cosa succede. Il problema è di gestirle bene. Il problema è quello che dicevo prima, di curarle con attenzione. Lei lo sa che l'ipertensione, il 50% è non aderente, non è aderente alla terapia in modo ottimale? Sa, e queste sono le cose che poi fanno la differenza. Perché queste patologie sono patologie tipiche della terza età, il problema è di curarle bene. Beh, lei pensi alla cardiopatia ischemica o alla fibrillazione atriale. Entrambe danno dei deficit di perfusione evidentemente. Se poi ci aggiunge anche un polmone che funziona male, 2 più 2 dà le conseguenze che ci aspettiamo negative. Buonasera, Lorenzo De Cicco del Messaggero. Volevo chiedere, al di là delle date che naturalmente fisserà il Governo, quando la curva dei contagi inizierà a scendere, quali possono essere i passaggi, insomma le fasi per una graduale riapertura dell'Italia? Grazie. Ma guardi, questo è uno degli argomenti su cui il Comitato su sollecitazione del Ministro della Salute ha cominciato a lavorare da ieri. Quindi ci lavoriamo. Bene lavorarci. Bene lavorarci per dire delle cose che siano semplici, efficaci e che abbiano senso. Abbiamo appena cominciato. Buonasera, Angelo Zaccone Teodosi per Riformista. Io torno su un argomento che ho già affrontato con alcuni di voi, ovvero i dati incompleti dell'andamento dell'epidemia e le cosiddette, purtroppo così definite, tristemente le morti nascoste. Questa mattina, come sapete, anzi oggi moriggio, il Presidente dell'Istituto Superiore di Sanità ha presentato i dati di una prima indagine esplorativa che riguarda specificamente alcune di queste morti nascoste. Sono quelle nelle residenze appunto per anziani. E volevo sottoporrevi questi dati e chiedervi un parere e soprattutto domandare perché non si decide di fare a tappeto in tutte le residenze per anziani i tamponi. Perché mi sembra che sia uno dei luoghi in cui, come ha definito un suo collega, uno dei target ideali del virus. I dati però sono abbastanza impressionanti perché su 2.256 residenze hanno risposto al questionario che è stato attivato dall'Istituto insieme al Garante Nazionale per le Persone Private della Libertà. Soltanto 236 residenze, quindi meno del 10%. In queste residenze ci sono complessivamente 19.000 persone circa e nell'arco di tempo studiato queste ultime settimane sono morte 1.850 persone. Cioè un 10% dei residenti nelle comunità appunto che hanno risposto al questionario. Il suo collega, il professor Brusaferro, ha detto da quello che ci risulta soltanto 57 sono attribuibili a Covid. Però come mi sono permesso di segnalare questo dato contrasta con quello che ha dichiarato ieri il professor Locatelli che soltanto nella provincia appunto di Bergamo ci sono state 600 morti nelle residenze per anziani. Allora al di là della qualità metodologica di un'indagine o di un'altra la domanda è perché non si interviene almeno con i tamponi nelle residenze. E l'altra domanda è collegata in qualche modo ad altre fasce deboli della popolazione che sono essenzialmente, come sa, c'è un appello del coordinamento nazionale delle comunità per minori che lamentano l'assenza di chiarezza nel che cosa fare e anche lì l'assenza di tamponi per poter verificare se questi minori sono in condizioni diciamo preoccupanti, latentemente preoccupanti. Segnalo sempre collegato a questa questione, la stessa questione di persone, chiaramente come sapete si sono registrati ormai i primi quattro suicidi, incluso anche di una, come sapete, di una infermiera per dinamiche infrapsichiche connesse al dramma, come dire, psicosociale che l'epidemia e i meccanismi di costrizione hanno determinato. E l'ultima è collegata anche qua a un'altra fascia debole, come sapete è stato multato l'altro giorno un genitore perché andava in bicicletta con il figlio, è stato ritenuto dai carabinieri o dalla Polizia di Stato che stesse trasgredendo le norme e c'è un appello di centinaia di associazioni per consentire come peraltro da suggerimento della stessa Organizzazione Mondiale della Sanità almeno di consentire a un genitore di uscire almeno un'ora al giorno a fare una passeggiata una corsa con i propri bambini. Grazie. Dieci minuti di domande. Allora provo intanto parto subito dall'ultima anche se non è esattamente il mio specifico però il Professor Villani ha presentato insieme con il Sottosegretario della Salute proprio una considerazione che verrà fatta proprio dal Comitato Tecnico Scientifico proprio per permettere l'uscita ai bambini con un genitore o con un parente per esercitare il diritto al sole e alla primavera. Per quanto riguarda tutto il resto diciamo che lei ha affrontato giustamente il pacchetto delle fragilità abbiamo in Italia 300.000 ospiti di residenze sanitarie assistenziali questi 300.000 ospiti hanno un'età media di 85 anni il 60% ha la malattia di Alzheimer quindi sono i più fragili dei fragili ed è evidente che il territorio che ospita queste fragilità deve essere rinforzato è una delle cose che ci ha insegnato questa epidemia non si fa dall'oggi al domani però è chiarissimo che è uno dei posti dove dobbiamo mettere mano e dobbiamo cercare di far sì che questi 300.000 ospiti così come i ragazzi nelle comunità alloggio abbiano dei punti di riferimento oggi è una zona molto grigia dove l'intervento è difficile anche perché ci sono differenze asl per asl comune per comune regione per regione c'è una disparità di organizzazione trattamenti personale che è incredibile lei ha fatto bene a sollevarlo io per primo perché è uno degli ambiti di cui mi occupo ne abbiamo parlato nel comitato tecnico scientifico e verremo fuori con qualche indicazione più puntuale perché questo terreno è un terreno assolutamente da arare Salve buonasera Veronica Di Benedetto dei Posti Internazionale volevo farvi una domanda su quello che è un possibile modello Bologna cioè il direttore di malattie infettive del Policlinico Sant'Orsola ha proposto un modello che va a cercare i pazienti direttamente nelle case cioè un controllo maggiore di quelli che sono pazienti con sintomi non gravissimi per mappare meglio appunto il contagio e al Sant'Orsola di Bologna lo stanno sperimentando con poi dei check in specifici entro le 72 ore dal controllo di questi pazienti cioè prevenire e non ricoverare quando i sintomi diventano gravissimi volevo chiedere che cosa ne pensavate a riguardo è tutto il bene possibile evidentemente fa seguito a quello che è il discorso che facevamo prima del territorio è chiaro che nell'ondata dell'emergenza e del numero incredibile di persone con sintomatologia grave è chiaro che abbiamo tutti pensato immediatamente all'ospedale l'ospedale è stato potenziato rafforzato e in qualche modo è riuscito a tenere botta all'enorme pressione dell'emergenza ma questo discorso del territorio ancora una volta è un discorso che dobbiamo cominciare l'esempio che mi fa lei mi fa venire in mente quello che fa il laboratorio di epidemiologia della regione Lazio che identifica gli anziani fragili perché essere anziano di per sé può anche non essere una caratteristica così negativa e soprattutto può essere un anziano assolutamente fit il vero problema è di trovare i fragili il laboratorio di epidemiologia della regione Lazio ha targato tutti quelli che avevano avuto un ricovero per una delle patologie che abbiamo citato prima e allora sapere questo vuol dire che il medico di medicina generale ha immediatamente la sua riserva di malati privilegiati per certi versi o che devono essere attenzionati il maggiormente possibile quello che in qualche modo sta facendo Bologna per cui è importante nel prossimo anno fare operazioni di questo tipo e quindi prevenire il potersi ammalare perché questi malati sono ben seguiti sono rafforzati e quindi in qualche modo ammalano di meno quindi benvenuta a un'iniziativa del genere Buonasera sono Ilenia Petracalvina di Raiuno la vita in diretta io volevo guardare al sud vedo che i numeri soprattutto tra Puglia, Campania e Sicilia sono contenuti però dalla Sicilia ci arriva la notizia della mancanza di reagenti per fare dei tamponi non so se voi potete confermare o meno questa prima notizia e poi Musumeci, presidente della regione Sicilia diceva che loro temono un po' che la Sicilia non possa gestire l'emergenza rispetto a quello che prevedono con i numeri volevo chiedervi e soprattutto Borrelli non so che cosa possiamo dire cosa possiamo sapere che tipo di scenario si può aprire al sud allora per quanto riguarda la questione reagenti sono alcuni giorni che al Comitato Operativo abbiamo avuto questa esigenza che è stata rappresentata oggi con il Ministero della Salute io ho invitato il Ministero della Salute a fare un tavolo per individuare delle soluzioni così come hanno fatto altre regioni nella regione Veneto hanno messo in atto un meccanismo per la produzione di reagenti è una delle esigenze che stiamo andando a soddisfare e che necessita di un coordinamento a livello nazionale per quanto riguarda i numeri al sud noi confidiamo e ci auguriamo con l'adozione dei corretti comportamenti che questi numeri possono essere mantenuti in Sicilia ci sono tutta una serie di attività di assistenza alla popolazione di misure messe in campo qualora dovesse aver bisogno la Sicilia noi siamo pronti come protezione civile nazionale il sistema a dare il supporto con personale medico strumentazioni in aggiunta a quelle che si stanno acquisendo che stanno arrivando e tutto quello che potrà essere necessario Matteo Guidelli dell'Ansa, buonasera. Volevo chiedere due cose da un paio di giorni stanno calando i ricoveri in terapia intensiva ma volevo capire quanti posti di terapia intensiva ci sono disponibili perché non è che si è saturato il sistema l'altra domanda che volevo fare al professore era come comitato tecnico scientifico che indicazione date al governo cioè una proroga della chiusura di 15 giorni ancora e poi si vedrà o più lunga? Grazie Partiamo dai posti di terapia intensiva come sapete c'è stato un programma di potenziamento dei posti in terapia intensiva io con me non ho i numeri che sono stati dati oggi dal commissario Arcuri lui ha un dato aggiornato e credo che sia anche disponibile online quindi mi riservo di far avere al rappresentante dell'Ansa e a voi quelli che sono i numeri dei posti in terapia intensiva nel giro di 5 minuti sul resto della domanda Sì, l'indicazione per il momento siamo fermi a Pasqua questo è più o meno l'indicazione che il Ministro ha recepito Buonasera, Gianluca De Rosa, Agenzia Nova io volevo sapere, oggi sono stati superati i 500 mila tamponi ma quante sono le persone che realmente sono state sottoposte al test? perché in realtà alcune persone avranno fatto 2, 3 e anche 4 tamponi Provo a dare una risposta io una persona almeno ne fa 3 dei tamponi perché uno lo fa quando si accerta che è positivo Per esperienza personale? No, 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 per carità non la voglio fare questa esperienza ma insomma uno lo si fa quando si viene dichiarati positivi e poi ce ne vogliono altri due per essere dichiarati negativi quindi sono almeno 3 tamponi a persona No, ci sono anche chi li fa di più magari Si vedono anche persone con 3 tamponi negativi e poi è positivo il secreto alveolare per cui si figuri No, c'è il buon senso che ha detto il Dottor Borrelli Bene, allora se non ci sono altre domande vi ringraziamo e ci vediamo domani sera, grazie Aspettate c'è un'ultima domanda o penultima, come volete Visto che oggi è presto approfitto Volevo chiedere, avete visto uno studio inglese autorevole anche che dice che in Italia potrebbero esserci 6 milioni già di contagiati che cosa vi fa pensare? Allora, io personalmente su questi numeri non oso immaginare né pensare noi abbiamo i dati che sono quelli che noi diamo quindi mi attengo ai dati che diamo Sa, fin quando non fa un'indagine epidemiologica vera con dei test validati, sensibili e specifici questi sono, non voglio dire numeri all'otto ma insomma sono guess, sono idee che poi magari è anche vero ma così nessuno può sbilanciarsi Grazie, grazie a tutti Grazie a tutti